Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi, sabato 3 marzo. Vediamo quali sono i temi più importanti della giornata. Ovviamente tutti quanti i giornali sono lì che si stanno aspettando che cosa succederà al voto di domani, 4 marzo. Finalmente siamo arrivati alla fine di questa campagna elettorale che Beppe Grillo ha detto essere bellissima, non è più la campagna del Vaffa, è la campagna più bella che ci sia, gli altri partiti invece si sono divisi. Il titolo forse più azzeccato di oggi è quello di Repubblica nel senso che dà l'idea di un'Italia divisa e tre, un'Italia divisa tra centrodestra, centrosinistra e il Movimento 5 Stelle. Tutti temono nei giornaloni la vittoria del 5 Stelle tranne che il fatto, Marco Travaglio, lo strillone del Movimento 5 Stelle continua ovviamente a far tifo come invece, non so, il giornale continua a fare il tifo per il centrodestra e Repubblica direi per Renzi mentre il Corriere della Sera è sempre in questa specie di equilibrio libero e verità un po' più vicine a Salvini. Insomma questo è il panorama dei giornali italiani in questa fase. Gari della Loggia scrive un articolo oggi che è un po' fuori dai commenti quotidiani perché dice dove sono finiti tutti quegli appelli degli intellettuali in genere di sinistra che prima delle elezioni andiamo a votare per la sinistra. In questo caso sono tutti silenti perché è poco chic stare con la sinistra di Renzi un tempo non era così, un tempo era solo un anno e mezzo, due anni fa in cui tutti quanti gli intellettuali, dei miei pif, stavano lì a farli da supporter. Oggi è tutto finito, gli intellettuali non stanno più con la sinistra non stanno con il Movimento 5 Stelle, non stanno ovviamente con il centrodestra di Berlusconi o di Salvini per i quali Dio me ne scampi se un intellettuale si possa avvicinare da quelle parti. Sulla politica oggi c'è molta roba di come il sistema elettorale funziona tutti quanti temono nei giornali che non vogliono il Movimento 5 Stelle affermarsi che il Movimento 5 Stelle sia particolarmente forte al Sud e essendo forte al Sud il Movimento 5 Stelle è lì che potrebbe cambiare il senso di questa partita. Seconda grande notizia della giornata, molto più importante di questa è quella che riguarda i dazzi di Trump. Allora uno può avere simpatia nei confronti di Donald Trump per il suo modo di parlare fuori dagli schemi, per il fatto che ha fatto fuori Hillary Clinton per l'idea che tutto ciò che l'America a noi non piaceva cioè quella roba libera, new yorkesa, politicamente corretta lui l'ha spazzata via. Soltanto questa è l'idea per la quale noi siamo stati dei grandi supporter del trumpismo. Poi però sulla questione dei dazzi bisogna essere dei cretini nel non riconoscere che aprire delle guerre commerciali sui dazzi in un mondo globalizzato e per fortuna che è globalizzato perché viviamo molto meglio di quando il mondo globalizzato non era non diciamo cazzate beh, insomma l'idea dei dazzi è un'idea molto pericolosa per un semplice motivo perché sulla carta i dazzi possono anche avere un senso ma sai dove inizi e non sai dove finisci. L'idea di Trump di mettere i dazzi sull'acciaio come in un'intervista molto interessante fatta oggi dal presidente della Federa Ciai Gozzi sul Sole 24 Ore ci fa capire come ad esempio il vero problema dei dazzi americani con cui dovrebbe rispondere l'Europa con i dazzi e gli jeans ai jeans minchiate di questo tipo a parte instaurare una guerra dei dazzi che è la cosa più brutta che ci sia perché se sembra semplice, no? se un paese importa qualcosa basta farla pagare di più e la importerà di meno sembrerebbe una cosa semplice, un gioco da ragazzi, no? fare questa partita qua e purtroppo non è così semplice soprattutto quando quell'acciaio in dumping viene fatto cioè a prezzi ridotti e con standard ambientali molto più bassi non viene fatto dall'Europa ma viene fatto dai cinesi che inondano, pare, gli Stati Uniti di quell'acciaio però quando quell'acciaio arriva negli Stati Uniti che cosa fa? fa le auto italiane localizzate in America BMW, Fiat, Chrysler che hanno dei prezzi contenuti grazie a cosa? all'acciaio che viene importato dalla Cina avete capito cos'è il grande casino della globalizzazione? e cosa succede se Trump mette dei dazzi all'acciaio e l'Europa risponde mettendo dei dazzi ai jeans americani? che i cinesi questo acciaio che comunque lo fanno a chi lo venderanno? agli europei così distruggendo il secondo paese che produce acciaio in Europa che è l'Italia peraltro, chi è il proprietario della più grande acciaglieria italiana? un indiano cioè lo stesso asiatico che ci vuol vendere l'acciaio in America e poi la rivenderà in Italia questo per dirvi che questa specie di gioco dell'otto che vi sto raccontando è il motivo per il quale i dazzi cioè il modo attraverso delle tariffe statali di modificare i prezzi di mercato fanno malissimo al mercato da chiunque venga quando io leggo oggi libero Paola Tommasi che mi viene a scrivere che i dazzi di Trump fanno bene e tutta la solita tiritera Trump ha sempre ragione eccetera rovinate, rovinate l'unica cosa buona che ha fatto Trump cioè Trump è fuori dai giochi l'utilizzo dei dazzi è un errore se voi prendete sempre tutto il pacchetto di Trump dicendo fa tutto bene secondo me sapete che cosa fate? fate un pessimo servizio non al giornalismo ma all'idea del giornalismo vuol dire chi se ne frega ma all'idea di difendere Trump laddove fa molto bene chiaro? cioè non si può non criticare mai Trump perché è diventato l'idolo dell'antiliberal se no siamo veramente dei partigiani come lo sono gli intellettuali new yorkesi o il nostro amico Trudeau semplice comunque insomma la roba dei dazzi l'affronta molto bene secondo me oggi il sole 24 ore ovviamente perché quelli là hanno una bella strizza un'altra cosa che mi chiedo che non sono riuscito a capire oggi mi sembra soltanto su Repubblica ma perché si chiama gelicidio? ma perché dobbiamo inventarci la parola gelicidio? anzi nell'intervista di Gozzi dice le industrie daziate daziate io voglio dire uso l'italiano in maniera diciamo un po' presso a pochista però gelicidio e daziate mi fa schifo un'azienda non è daziata un'azienda subisce dei dazzi se l'acqua diventa ghiaccio non si può definire gelicidio è tutto no? no? una roba tremenda e moriamo del gelicidio ecco dobbiamo morire di qualcosa moriremo del gelicidio stupendo il pezzo oggi di Giancarlo Perna leggetelo di ordinaria schifezza romana perché no Françoise zuppicidio no la cosa che racconta Perna è i romani e la scena con quella signora di buona famiglia di buon reddito che gira per strada col sia cagnolino e che fa la popò per strada e Perna gli dice ma scusi signora ma non si può è una cosa incivile lasciare i bisogni dei cani per strada e la signora dà una calcio a quella popò e la butta all'interno vicino a dei cassonetti ecco allora quello quello che Perna oggi racconta è ragazzi ve la prendete tanto con la Raggi state attenti non sono impazzito non sono a favore della Raggi e contro Trump oggi non è cambiata la zuppa però bisogna avere un po' di obiettività nel raccontare le cose Roma quando vedi il suo degrado urbano beh ci può anche essere una colpa nella sua amministrazione ma molto è fortissima e anche noi romani che trattiamo la città di merda chiaro? chiaro questo esiste e Perna oggi come sa far lui lo racconta ieri io non ho fatto la rassegna ho fatto tardissimo e continuerò a farlo anche nei prossimi giorni per la fine di questa campagna elettorale me ne scuso perché il nostro appuntamento quotidiano e deve rimanere tale tutte le mattine però non posso non segnalarvi una cosa che ho letto ieri di Corrado Augas Corrado Augas risponde alle lettere dei suoi lettori e uno di questi lettori parla della maestra famosa che dice io ucciderei questi poliziotti prenderei il fucile perché questi difendono i fascisti e comunque bisogna combattere il fascismo uccidendo i poliziotti in piazza questa cosa l'ha detto avanti a 20 telecamere poi il nostro Angelo Machiavello di Matrix l'ha incalzata e l'ha ripetuto in questo suo stato alterato con la birra in mano questa minaccia di morte nei confronti dei poliziotti chiaro la professoressa che insegna agli studenti di 8 anni si è aperta a una questione scrive una lettera più o meno indignata ma anche giustificando il fatto che durante la piazza si possono dire cose incredibili un lettore Auges risponde tra le altre cose il servizio giornalistico di Matrix ha dato alla Cassaro cioè a questa professoressa quella visibilità per evidenti ragioni editoriali e no no caro Auges per evidenti ragioni editoriali tu hai fatto sì che Nicola Porro cioè il sottoscritto non fosse invitato nella tua trasmissione della RAI pagata dai contribuenti a presentare il suo libro perché ti hanno imposto caro Auges di non invitare Nicola Porro prima mi ha invitato mi ha detto se volevo il taxi poi mi ha detto mi spiace non puoi più venire e non sono andato mai a presentare il mio libro nella tua trasmissione RAI pagata anche da me quella è una ragione editoriale caro Auges che fa il maestrino il motivo per il quale Matrix ha pubblicato quel servizio sulla maestrina che dice che vuole ammazzare i poliziotti è una cosa che tu non conosci e sai qual è la notizia non la politica non il comunismo non i vostri quattro cazzo di amichetti che vi ritrovate non al bar ma nel pub del politicamente corretto a Roma chiaro Auges non c'è nessuna evidente ragione editoriale se non una cosa che tu non hai mai fatto in vita tua trovare una notizia e una professoressa che vuole uccidere i poliziotti e che ha degli studenti di otto anni sotto la sua custodia potenzialmente nei prossimi mesi Auges è una notizia chiaro è una notizia non è altro che una notizia non c'è nessuna ragione editoriale per mandare in onda quella se non per fare il nostro mestiere che tu non hai mai fatto se non vigliaccamente impedendo a chi non la pensa come te di venire nei programmi dove tu sei pagato da tutti i contribuenti chiaro amico mio Auges puoi avere anche quel tono moderato simpatico da vecchio signore ma sono i vecchi signori con quell'aria moderata e per bene che leggono dei vecchi libri che sono i più pericolosi per una democrazia come la nostra che si è basata su intellettuali comunisti come siete voi cari amici vi do appuntamento a domani con la zuppa di porro e veramente per oggi è tutto ciao